Ciao a tutti! Questo è il video di ringraziamento per i 100.000 iscritti che ha raggiunto il mio canale però ho dovuto aspettare che YouTube mi mandasse il pataccone eccolo qua nel frattempo sono arrivato a 120.000 quindi grazie a tutti voi questo però non è solamente un video di ringraziamento e prima dei ringraziamenti e di un piccolo annuncio che farò alla fine volevo rispondere a una domanda che mi avete fatto in tantissimi sotto il video della coca cola mi avete chiesto come fa la coca cola zero e altre bevande analoghe a essere così dolce eppure dichiarare zero calorie e cosa succede quindi se la faccio bollire? perché la coca cola zero non contiene zucchero dalle domande mi sono reso conto che molti di voi, molte persone non conoscono il concetto di sostanza edulcorante il nostro corpo riconosce gli zuccheri in tutte le sue forme come glucosio, saccarosio, fruttosio, sciroppo d'agave, sciroppo d'acero zucchero di cocco, zucchero di tutti i tipi questi sono tutti calorici e alla fine il nostro organismo li usa tutti esistono però delle sostanze ingannatrici sostanze che ingannano il nostro senso del dolce pur non essendo degli zuccheri e quindi pur non avendo calorie o avendone pochissime le possiamo leggere qui sull'etichetta mentre iniziamo a farla bollire possiamo vedere che contiene come edulcoranti, ciclammato di sodio, acesulfame K e aspartame sono tutte sostanze che oltre a ingannare il nostro senso del dolce sono estremamente potenti, ne bastano pochissime per dare il senso del dolce se in una bottiglia di mezzo litro di una bevanda gassata ci sono circa 50 grammi di zucchero quindi sono un sacco per dare la stessa sensazione di dolce sono sufficienti a volte pochi milligrammi o anche meno di queste sostanze edulcoranti perché hanno 100, 200, 500, a volte migliaia di volte un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero o degli altri zuccheri ecco quindi cosa succede quando faccio bollire la coca cola zero che è praticamente solo acqua con un po' di caramello o un po' di questi edulcoranti ma sono in quantità piccolissime e quindi non formano uno sciroppo come abbiamo visto nell'altro video alla fine carbonizzo quel po' di acidi ed edulcoranti che ci sono dentro quindi questo è il segreto della coca cola zero o di altre bevande analoghe che in realtà non è affatto un segreto però mi sono reso conto appunto che molte persone non conoscevano gli edulcoranti e il fatto che se ne potessero utilizzare quantità veramente veramente piccole vi prevengo delle domande come ma fa male? fa meglio della coca cola con lo zucchero? oppure ma serve veramente? beh questi sono discorsi abbastanza complessi che affronterò col mio amico Renato Bruni questo weekend al Food and Science Festival di Mantova e precisamente domenica 20 nel pomeriggio vi metto il link in descrizione è tutto un weekend dedicato alla scienza del cibo se siete in zona vi consiglio caldamente di venire e se mi vedete in giro per Mantova non abbiate problemi a fermarmi il punto chiave per interpretare tutto il discorso è capire che il nostro corpo di queste sostanze che sono dolci ma non sono zuccheri non sa che farsene, le vuole eliminare il più velocemente possibile nel momento in cui ha capito che non sono zuccheri quindi non possono essere utilizzate per darci energia le vuole distruggere ed eliminare veramente il più velocemente possibile questo indipendentemente che siano naturali o di sintesi non conta nulla per il nostro corpo questa è una cosa che dovete abituarvi a pensare spesso si dice la stevia è naturale e quindi non fa male ma no, cioè il nostro corpo non distingue le sostanze naturali o meno non ha assolutamente senso la distinzione per il nostro corpo quando sente una cosa che è dolce ma non sa che farsene non sa utilizzarla la vuole eliminare e così quindi l'aspartame, la saccarina, la cesulfame gli steviosidi estratti dalla stevia noi non usiamo la stevia vietata per tutta una serie di motivi che approfondiremo usiamo degli steviosidi, delle sostanze estratte dalla stevia con un procedimento industriale ma tutti vengono schifati dal nostro corpo che cerca di eliminarli e eliminandoli spezza queste molecole in molecole più piccole e prima che queste vengano eliminate, per esempio con le urine dobbiamo capire se fanno dei danni o no ed ecco perché per ognuno di questi edulcoranti bisogna fare degli studi apposto che siano naturali o meno, ripeto, non importa per essere sicuri che mentre li buttiamo fuori non ci facciamo male quindi la risposta alla prima domanda è sembra che alle normali dosi di utilizzo sapete che le dosi sono fondamentali non si può mai parlare di qualche cosa che fa bene o fa male in assoluto quindi alle normali dosi di utilizzo non sembra che questi edulcoranti ci possano fare male però però sembra che siano totalmente inutili per ridurre l'apporto calorico quindi queste bevande hanno zero calorie in realtà non sono proprio zero, sono poche però sotto una certa soglia la legge permette di dire che sono zero quindi in teoria se io mi bevo una coca cola zero invece di una coca cola normale sto assumendo davvero in quel momento meno calorie ma quello che succede dagli studi fatti è che si innesca un meccanismo psicologico per cui le persone che abitualmente desiderose di ridurre il loro apporto calorico perché magari vogliono dimagrire consumano tutte bevande zero o bevande light o cibi di questo genere beh in realtà assumono sempre la stessa quantità di calorie quindi di fatto non dimagriscono perché? ma perché probabilmente nella loro testa diciamo c'è un riflesso che le porta a sgarrare un po' di più perché hanno detto vabbè prendo la coca cola zero quindi magari posso prendere una porzione in più di torta o posso prendere quella brioche al cioccolato perché ho messo l'edulcorante nel caffè ecco quindi di fatto ma questo è un discorso molto più complicato che cercheremo di affrontare a Mantova e poi lo affronterò in uno dei vari video sapete che qui sul canale ho una serie di video programmati molti ne ho già fatti sullo zucchero e sul mondo del dolce quindi arriveremo con pazienza anche a questo quindi per ora se volete bere una bevanda zero invece di una bevanda normale potete farlo siete ragionevolmente sicuri che alle normali dosi di utilizzo non dovrebbe farvi male attenzione però che se bevete non so due litri di una bevanda gassata tutti i giorni che siano zero con lo zucchero e così via forse non state comunque mangiando o bevendo troppo bene quindi doveste rivedere un po' le vostre abitudini alimentari ora vediamo ai saluti e poi vi faccio il piccolo annuncio ovviamente ringrazio tutti voi 120.000 che mi avete supportato e mi incoraggiate sempre a fare questi video anche se sono piuttosto lento perché sono piuttosto faticosi e ho tante altre cose da fare voglio fare un saluto particolare ad Adrian Fartade di Link4Universe che probabilmente tutti voi o quasi tutti voi conoscete l'ho incontrato ieri alla sua presentazione del libro che ho appena pubblicato a pieni nudi su Marte alla Feltrinelli di Milano in Piazza Duomo se non conoscete il libro vi consiglio di andare a prenderlo Adrian è un divulgatore scientifico a tema spazio che ho studiato, che ho osservato prima di decidere di mettermi a fare i video osservando i numeri che riusciva a fare sia di visualizzazioni sia di iscritti con dei video molto molto lunghi avevo visto video di 20, 30, 40 volte più di un'ora mi sono convinto che c'era spazio questa è una battuta pessima che Adrian apprezzerà c'era spazio anche per me e altri divulgatori e che mi ha fatto capire che ci sono persone come voi che cercano questo tipo di contenuti diciamo scientifico-culturali che spesso su YouTube Italia si fa fatica a trovare quindi ciao Adrian e grazie e se non conoscete il suo canale dovete assolutamente conoscerlo anche se non ha bisogno della mia pubblicità perché anche lui ha più di 100.000 iscritti prima dell'annuncio vi ricordo che io ho un secondo canale che si chiama Scienza in Cucina l'ho aperto per poter mettere su dei video fuori formato o per esempio delle live che faccio su altri social per esempio su Instagram dove non rimangono se non per 24 ore e quindi le metto su quel canale o altre cose ora l'annuncio di una piccola cosa che voglio fare ma per far questo ho bisogno del primo numero dell'uomo ragno quindi vado a prenderlo tra l'altro per chi non l'avesse colto come il mio amico Riccardo Vessa di Vesa Channel il titolo di Amichevole Chimico di quartiere è un omaggio all'amichevole uomo ragno di quartiere tra parentesi sul canale di Vesa c'è una mia diretta che ho fatto con lui a casa sua settimana scorsa dove abbiamo parlato di divulgazione se vi interessa potete andare a vederla ora alla fine della prima storia dell'uomo ragno Stan Lee come didascalia della vignetta finale scrive chi ha grandi poteri ha anche una grande responsabilità tra parentesi questa frase è stata attribuita allo zio Ben morto nel primo numero, lo zio di Peter, solamente molti molti anni dopo perché in realtà è stata scritta come didascalia da Stan Lee il tizio qualunque alias Francesco Gastaldo super esperto dell'uomo ragno e di altri fumetti Marvel qui su YouTube potrà confermarvelo da grandi poteri deriva una grande responsabilità e questi poteri me li avete dati voi voi mi avete dato, voi 120.000 mi avete dato una grande visibilità e quindi ho deciso di usare questa visibilità per consigliarvi altri canali di tipo scientifico-culturale che però sono magari un po' più piccoli e non riescono ad avere la visibilità che invece dovrebbero lo farò in vari video, a cominciare da questo, di solito in fondo per cui, come per i film della Marvel, aspettate fino ai titoli di coda perché altrimenti vi perdete delle scene interessanti lo scopo è quello di far crescere una community italiana più grande di quella che c'è già adesso di creatori di contenuti scientifico-culturali invogliare altri che ancora non hanno un canale magari a venire su YouTube e di far crescere anche la community di persone, voi, che siete interessati a questo tipo di contenuti Ecco quindi tre canali che vi consiglio oggi il primo è Curious tra l'altro in dialetto almeno nelle mie parti Curious vuol dire proprio curioso è un bellissimo canale di divulgazione scientifica si occupa prevalentemente di fisica Alan è un bravissimo attore e vi consiglio caldissimamente la serie per esempio sulla relatività che sta facendo in questo momento Poi c'è Zorspark con gli schifo animali come facevano sesso i dinosauri i segreti della cacca e tanti altri video con tema zoologico e infine Daniele MS con paradossi logici il corretto argomentare, esperimenti mentali e così via Per oggi il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta e ci vediamo presto ciao